Molti, e purtroppo non solo tra gli atei, dubitano ancora che Gesù Cristo sia esistito veramente. Qualcuno pensa che non esistano neppure le tracce storiche di Gesù Cristo. Ebbene, noi invece sappiamo che è esattamente il contrario. Le scoperte archeologiche hanno dimostrato l'esistenza non solo di Gesù Cristo, ma addirittura di tutti i personaggi che, secondo i Vangeli, vivevano al tempo di Cristo. Ma partiamo da un dato incontestabile. Sono riflessioni di Meredzowski, in un bellissimo libro dedicato alla figura del Cristo. Egli ci dice che se Gesù fosse realmente esistito, quali tracce storiche dovremmo trovare della sua esistenza? Probabilmente non si dovrebbero trovare prove evidenti prima del secondo secolo dopo Cristo. Perché? Perché è soltanto in questo periodo che il cristianesimo è potuto diventare un fenomeno religioso a tutti gli effetti. Quindi è soltanto in quel periodo che si potrebbe sentir parlare, incominciare a parlare, di cristianesimo e di Cristo. E in effetti è proprio storicamente avvenuto questo. È in questo preciso momento storico, il secondo secolo, che incominciano ad apparire le prime notizie e testimonianze da parte degli storici romani su Gesù di Nazareth. Formuliamo una seconda domanda. Se Gesù è veramente esistito, di lui se ne sarebbe parlato senz'altro in termini despregiativi e in maniera molto fugace. Il primo motivo? A causa della morte infamante che ha subito. Il secondo motivo? Per lo scarso interesse che l'evento rivestiva in sé. Infatti, chi avrebbe speso delle parole per uno scuro giudeo? Tutto ciò avvenne? Certamente. La storia ci informa che il primo a parlare di Cristo fu effettivamente un pagano, cioè Plinio il Giovane, proconsole di Bitinia, il quale, in una lettera all'imperatore Traiano, datata circa 111 d.C., chiede informazioni direttive sul come comportarsi nei confronti degli adepti di una nuova setta, detta dei cristiani, che ormai erano divenuti come numero, diciamo, un problema preoccupante. Ecco, nel suo scritto Plinio fa riferimento al fatto che, cito testualmente, in un giorno definito prima del sorgere del sole si radunano e cantano l'inno a Cristo come a Dio. Ma anche Tacito, un altro pagano, circa 115 d.C., scrivendo sulla diceria neroniana della colpevolezza dei cristiani per l'incendio di Roma, parla di, cito testualmente, Cristo sotto l'impero di Tiberio, condannato a morte dal procuratore Ponzio Pilato, esattamente come dicono i Vangeli. Quindi la storia conferma la storia. E dalla storia anche le parole di Svetonio confermano la veridicità dell'esistenza di Gesù Cristo. Infatti Svetonio dice gli ebrei furono sollevati da un certo Cresto e furono da lui cacciati, dall'imperatore Claudio, da Roma. Quindi Claudio caccia questi, diciamo, ebrei sollevati da Cresto. Non c'è dubbio che il Cresto di cui parla Svetonio sia il Cristo del Vangelo, perché proprio nel periodo citato in Palestina non si è trovato, prima di tutto, nessun ribelle famoso con questo nome. Ma addirittura poi da San Giustino, da Finagora e da Tertuliano, noi siamo informati che i cristiani anticamente venivano proprio chiamati Crestiani, cioè da Cresto. Ecco. Ma la testimonianza forse più importante ci giunge da Giuseppe Flavio, uno storico giudeo apostata dalla fede ebraica, diventato poi annalista alla corte dei Flavi, nella sua opera Antichità Giudaiche, egli scrive In quel tempo apparve Gesù chiamato Cristo, abile taumaturgo, e anche quando Pilato, su denunzia dei nostri primi uomini, lo condannò a morire sulla croce, quelli che fin da prima lo amavano non cessarono di amarlo fino alla fine. E c'è ancora una comunità, dice Giuseppe Flavio, che ha ricevuto da lui il nome di Cristiani. Ecco qua come una testimonianza giudaica conferma e rafforza le testimonianze romane. Quindi le tracce di Gesù si trovano nella storia, Gesù è un uomo realmente esistito, un personaggio realmente esistito, e questo la storia lo dice a chiare lettere. Ma non soltanto la storia, anche la profezia. E nella profezia scopriamo che Gesù non era solamente un uomo, ma era il Messia, cioè il figlio di Dio sceso in terra. Ma andiamo con ordine. Cosa c'entra la profezia? La profezia è previsione di un futuro, vicino o lontano, che la storia si incaricherà di realizzare. Se una profezia è vera, questa si dovrà realizzare storicamente. Ebbene, una profezia, quella detta delle 70 settimane, è stata promulgata, 600 anni prima che Cristo nascesse, da un profeta, Daniele, il quale, deportato a Babilonia dal re Nebuchadnezzar, si trova in quell'ambito a essere un portavoce di Dio. Egli vedrà la successione dei regni babilonese, Medo-Persiano, e quindi anche Greco. Ma quello che conta è che Daniele è lì, in quel contesto di prigionia, a illuminare non solo i giorni dei giudei deportati in Babilonia, ma i secoli, perché egli dice, non soltanto ai giudei prigionieri, ma a tutti i credenti di tutti i tempi, il Messia verrà, e io vi do chiari segni, chiare indicazioni, per poterlo riconoscere addirittura nella storia. Daniele è nel momento in cui arriva Ciro. Ciro, vi ricorderete dalla prima conferenza, è il condottiero Medo-Persiano profetizzato con cento anni di anticipo da Isaia. Quindi, come vedete, le profezie che si addempiono nella storia sono attendibili, meritano la nostra attenzione. Quindi Daniele è lì che sta studiando, anche egli, le profezie, i libri, e lo fa nel periodo in cui Ciro è il detentore del governo e il successore dell'impero babilonese. Quindi è in quel contesto che Daniele pregando riceve la famosa profezia delle settanta settimane. La profezia delle settanta settimane non parla di un Messia qualunque, perché anche Ciro è stato un Messia. Messia vuol dire unto, dalla parola mescià, che vuol dire appunto ungere. E quindi il Messia è colui che è stato unto, e può essere un sacerdote, un profeta, un capobanda addirittura. Qui invece la profezia ci fa capire che il Messia di cui si parla, Daniele capitolo 9, è il Messia dei Messia, cioè un Messia speciale. E Daniele, consultando le profezie, si accorge che il tempo della prigionia sta per scadere, ma l'angelo gli dice io libererò non soltanto il popolo giudeo prigioniero in Babilonia, ma il mondo dalla maledizione del peccato, facendo sì che una profezia annunci la venuta del Messia, perché rischiari i secoli e quindi anche dia speranza alle attese di quanti attendono un nuovo regno, una salvezza messianica. Ecco, leggiamo allora brevemente questa profezia che, ripeto, si trova nel capitolo 9 del libro di Daniele e l'angelo dice a Daniele guarda, passeranno alcuni anni e poi apparirà l'unto, il salvatore del mondo. E dal versetto, possiamo leggere fino al versetto 24 del capitolo 9, è detto 70 settimane sono fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città per far cessare la trasgressione, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e addurre una giustizia eterna, per suggellare visione e profezia e per ungere un luogo santissimo. Sappilo dunque, gli dice l'angelo, e intendi, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e riedificare Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, vi sono sette settimane e in 62 settimane essa sarà restaurata, ricostruita piazze e mura, ma in tempi angosciosi. Ora, nell'originale non ci sono queste interpunzioni, queste congiunzioni, diciamo, del testo italiano, ma il testo originale dice dal momento in cui è uscito l'ordine per riedificare Gerusalemme fino all'apparire di un unto, passeranno sette settimane e 62 settimane, quindi due gruppi temporali. Dopo le 62 settimane, continua la profezia, un unto sarà soppresso e nessuno sarà per lui. E poi qui viene detto che il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Ecco, se leggiamo la storia ci accorgiamo che questa profezia si è adempiuta letteralmente. 70 settimane, vogliono dire 490 anni. Per quale motivo? Perché nel linguaggio biblico, soprattutto nel linguaggio profetico e in questo contesto nel libro di Daniele, i periodi sottostanno a una regola fondamentale, quella del giorno-anno, cioè ogni giorno equivale a un anno, lì dove è indicato. Quindi, sette settimane sono 49 anni, cioè sette per sette, 49. Una settimana sono sette anni, sette per uno, sette. E quindi, settanta settimane sono 490 anni. Sette per sette, 49. Quindi, 490 anni. Ma, quando inizia il computo della profezia, da quando partire per arrivare al termine dei 490 anni, la profezia lo dice dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare Gerusalemme. Leggendo il libro storico di Esdra, contenuto nella Sacra Scrittura, scopriamo che ci sono stati tre ditti che sono stati promulgati dai vari re che si sono succeduti all'impero babilonese e che hanno permesso ai giudei di ritornare nella loro patria. Ricordiamo che il re Nebuchadnezzar aveva distrutto Gerusalemme e portato prigionieri in Babilonia, diversi dignitari, diversi prigionieri, tra questi anche Daniele che poi divenne profeta dell'Altissimo. Quando Nebuchadnezzar cadde, nel 538 a.C., per opera appunto dei Medo-Persiani, i re Medo-Persiani promulgarono degli editti affinché i prigionieri giudei di Babilonia potessero ritornare a Gerusalemme. E questo dice la profezia. Nel momento in cui uscirà l'editto per poter ricostruire Gerusalemme, piazze e mura, e allora da lì potete contare 70 settimane e giungere fino all'epoca dell'apparizione del Messia. Quali furono questi tre editti? Il primo è un decreto più che altro, quello del 538, fatto da Ciro, il famoso Ciro profetizzato da Isaia. Ritornarono però soltanto mille giudei in Patia, ma non era stato dato il permesso di ricostruire Gerusalemme, era stato dato il permesso di tornare in Patia per ricostruire perlomeno il Tempio. Quindi Israele non poteva diventare di nuovo una nazione, avere delle leggi, avere degli organismi giuridici, finanziari, legislativi, no, soltanto il Tempio per adorare il loro Dio. Ci fu un secondo decreto del 519 a.C. fatto da Dario Istapse, non Dario il Medo, e questo decreto conferma soltanto l'ordine di Ciro, perché per ricostruire il Tempio gli ebrei avevano avuto delle difficoltà e quindi questo secondo decreto fa capire che i re volevano la ricostruzione del Tempio e che fossero lasciati in pace gli ebrei che lo stavano ricostruendo. Ci fu un terzo decreto ed è questo decreto 457 a.C. ad opera di Artaserse che permette realmente la ricostruzione delle strutture amministrative di Gerusalemme, come dice Esdra nel capitolo 7 del suo libro a versetto 25. È l'unico decreto in cui si sottolinea l'azione di Dio, è Dio che riporta gli scampati in Patia per ricostruire finalmente la nazione ebraica. La restaurazione comincia proprio da qui, 457 a.C. Quindi quando la profezia dice 70 settimane iniziano dal momento in cui è uscito il decreto per ricostruire Gerusalemme, ecco che abbiamo anche l'anno d'inizio delle 70 settimane da cui contare dal 457 noi contiamo 490 anni quindi 70 settimane 70 per 70 490 e arriviamo a un punto preciso della storia però andiamo con ordine il testo ci dice che in 7 settimane Gerusalemme sarebbe stata ricostruita e in 62 e aggiungendo alle 7 settimane altre 62 settimane sarebbe apparso il Messia quindi la profezia delle 70 settimane è suddivisibile in tre periodi fondamentali 7 settimane per la ricostruzione di Gerusalemme 62 settimane che giungono fino a quando appare il Messia però esiste anche un ultimo periodo il testo dice nell'ultima settimana quindi negli ultimi sette anni accadranno degli eventi particolari che vedremo poi in separata sede quindi riassumiamo la profezia delle 70 settimane è suddivisibile in tre periodi fondamentali 7 settimane 62 settimane e un'ultima settimana quindi sono 62 più 7 69 più una finale 70 60 analizziamo il primo periodo quello delle sette settimane Gerusalemme venne ricostruita proprio in quel tempo sette settimane quindi se ritorniamo al computo giorno anno sette settimane sono 49 anni e in effetti al termine di 50 anni quindi 49 50 anni Gerusalemme venne ricostruita perfettamente venne ricostruita perfettamente e vennero ricostruite le sue mura vennero ricostruite le sue piazze il testo diceva addirittura in tempi angosciosi quindi non serenamente la costruzione ricostruzione avvenne e se leggiamo i libri di Ezra e Neemia ci accorgiamo perché dalla storia quelli furono tempi angosciosi mentre gli ebrei ricostruivano le mura venivano attaccati continuamente giorno e notte dai loro nemici e la ricostruzione durò appunto 50 anni durò appunto 50 anni esattamente come diceva la profezia quindi sette settimane per la ricostruzione di Gerusalemme poi 62 settimane in aggiunta per arrivare dove in questo periodo di 62 settimane non succede nulla di particolare perché perché il testo ci vuol far capire che le sette settimane erano soltanto per la ricostruzione di Gerusalemme e la storia ci dice che ciò è avvenuto alla fine della ricostruzione di Gerusalemme passeranno altre 62 settimane al termine delle quali apparirà appunto l'unto il messaggio quando è che appare l'unto? benissimo a partire dal 457 avanti Cristo noi sommiamo i periodi temporali che ci propone la stessa profezia cioè le sette settimane utilizzate per ricostruire Gerusalemme e le 62 settimane da aggiungere alle sette per giungere fino alla pagina dell'unto quindi sette settimane più 62 settimane sono in totale 69 settimane per il principio giorno-anno 69 settimane sono 483 anni e partendo dal 457 avanti Cristo ripeto anno in cui Artaserse promulga il suo decreto per far ritornare in patria gli ebrei a ricostruire la loro città dal 457 se contiamo 483 anni arriviamo al 27 dopo Cristo ecco questa è la data che ci interessa che cosa ci indica il 27 dopo Cristo indica l'inizio dell'ultima settimana abbiamo detto sono trascorse 69 settimane nell'ultima settimana appare l'unto a metà della settimana viene ucciso e poi alla fine della settimana il tempo di grazia per gli ebrei scade perché la profezia diceva 70 settimane sono riservate al tuo popolo Daniele quindi agli ebrei 70 settimane sono 490 anni e Dio dice a Daniele agli ebrei do ancora 490 anni per poter capire chi è il Messia dopodiché io non sceglierò più un popolo particolare sceglierò tutti coloro che sceglieranno il Messia allora ricapitolando nell'ultima settimana di queste 70 settimane avvengono dei fatti importanti dovrebbe apparire l'unto questo unto dovrebbe essere ucciso a metà della settimana e poi nell'altra metà al termine dell'altra metà della settimana che rimane ancora sarebbe scaduto il tempo di grazia dedicato proprio al popolo ebraico agli ebrei poi vedremo che cosa significa questo ritorniamo all'inizio cioè all'inizio dell'ultima settimana e l'ultima settimana inizia quando scadono i 483 anni ossia quando scadono le 69 settimane che è la stessa identica cosa ora in questo momento storico accade qualcosa di importante cioè il 27 dopo cristo cosa succede nel 27 dopo cristo luca lo riporta con attenzione con dovizia di particolari nel capitolo 3 del suo vangelo ai versetti 21 e 22 leggiamo quanto segue ora avvenne che come tutto il popolo si faceva battezzare essendo anche gesù stato battezzato mentre stava pregando saprì il cielo e lo spirito santo scese su di lui in forma corporea guisa di colomba e venne una voce dal cielo tu sei il mio diletto figliuolo in te mi sono compiaciuto il 27 dopo cristo è l'anno di apparizione pubblica di gesù cioè gesù incomincia a predicare il suo vangelo nel 27 dopo cristo il battesimo il battesimo è la la firma diciamo così su un documento che attesta l'adesione del firmatario a una a una visione della vita gesù dice io facendomi battezzare riconosco di essere di dio riconosco di essere il figlio di dio infatti il dio stesso in quel contesto opererà un miracolo e dirà farà sentire una voce che dirà questo è il mio diletto figliuolo quindi gesù attesta di essere il figlio di dio e di iniziare una missione salvifica inizia la sua predicazione pubblica è il 27 dopo cristo quindi se per la profezia delle 70 settimane il messia sarebbe dovuto apparire alla fine delle 69 settimane quindi all'inizio dell'ultima settimana per completare le 70 noi storicamente accertiamo che gesù cristo appare in quel momento in cui la profezia dice deve apparire l'unto il messia che dovrebbe guarire il mondo dai suoi peccati quindi non un messia locale particolare di un popolo particolare ma il messia dei messia il messia universale che anno è il 27 dopo cristo e lo dice chiaramente luca poco prima nel suo capitolo 3 del suo vangelo ora nell'anno decimo quinto dell'impero di tiberio cesare essendo ponzio pilato governatore della giudea ed erode tetrarca della galilea e filippo suo fratello tetrarca dell'iturea e della traconidide e lisania tetrarca della bilene vedete quanta dovizia di particolari proprio perché lo storico possa dire sì è vero ci sono degli appigli per poter determinare storicamente questo evento e poi ancora giunge sotto i sommi sacerdoti anna e caiafa la parola di dio fu diretta a giovanni figliolo di zaccaria nel deserto giovanni il battezzatore è colui che annuncia la venuta del messia e il quindicesimo il decimo quinto quindi il quindicesimo anno dell'imperio di tiberio cesare è il 27 dopo cristo l'anno in cui appare gesù e incomincia a predicare l'evangelo eccolo il messia predetto dalle 70 settimane con precisione matematica al termine dei tempi fissati e stabiliti e predetti con 600 anni di anticipo appare il messia profetizzato quindi quando gesù appare nel 27 dopo cristo inizia l'ultimo periodo delle 70 settimane vi ricordate abbiamo detto 7 settimane per la ricostruzione di gerusalemme poi 62 settimane da aggiungere a queste per fare le 69 che arrivano fino tutte insieme all'apparizione dell'unto quindi quando l'unto appare quando gesù appare inizia l'ultima settimana delle 70 69 più una settimana l'ultima 70 settimane il testo ci dice che a metà della settimana a metà di questi sette anni l'unto sarà soppresso e la parola ebraica è crt che significa morte violenta quindi l'unto sarà ucciso assassinato è una parola legale del pentateuco cioè i primi cinque libri della bibbia che sta a indicare una condanna a morte quindi Daniele ricorda la morte del messia in termini che ricordano i sacrifici dell'agnello levitico il messia sarà ucciso sacrificato assassinato in poche parole insomma a metà della settimana quindi se noi contiamo dal 27 dopo Cristo metà settimana cioè tre giorni e mezzo arriviamo proprio al 31 dopo Cristo è l'anno in cui Gesù viene crocifisso a metà della settimana come diceva la profezia promulgata da Daniele a Babilonia 600 anni prima a metà della settimana l'unto che era apparso tre anni e mezzo prima verrà ucciso soppresso rimangono tre anni e mezzo per concludere la settimana e infatti si giunge al 34 dopo Cristo l'anno in cui Stefano primo martire viene lapidato dai suoi stessi confratelli giudei perché aveva avuto l'ardire di predicare Gesù come messia risorto e dominatore del mondo lo uccidono e in quel momento scadono le 70 settimane e scade il periodo di grazia che Dio concede al popolo di Israele da quel momento Israele non è più popolo di Dio ma il Dio rivolge il suo messaggio universalmente a tutti i popoli a tutti gli uomini di buona volontà grazie ai primi discepoli ai primi apostoli ai primi cristiani che spargeranno l'Evangelo in tutto il mondo certamente questo non vuol dire che Dio rifiuta gli ebrei gli israeliti Dio non ha più bisogno di un popolo che sia quello israelita che sia quello islamico quello americano insomma non c'è un popolo di Dio sulla faccia della terra se non un'unione di cristiani che osservano i suoi comandamenti le sue leggi ma questo è tutto un altro discorso e ora non ci compete la profezia andava anche oltre e diceva che dopo la soppressione dell'unto il capo di un popolo che verrà distruggerà completamente Gerusalemme ora la profezia diceva che sarebbe stata ricostruita questo è avvenuto ma la profezia delle 70 settimane diceva anche che sarebbe stata distrutta di nuovo e in ordine cronologico dopo la morte del Messia infatti nel 70 d.C. gli eserciti romani capeggiati da Vespasiano prima da Tito poi assediano Gerusalemme e dire Gerusalemme non rimarrà più nulla in piedi se non il muro del pianto che ancora oggi è visitato non solo dagli ebrei ma insomma da tutti coloro che vanno in Israele e Gesù stesso Messia e profeta lo aveva annunciato con 40 anni di anticipo quando i discepoli un giorno facendo una passeggiata con il loro maestro gli fecero notare gli splendori di Gerusalemme e soprattutto il Tempio Gesù dice non rimarrà pietra sopra pietra 40 anni dopo questa profezia si realizza ciò che rimane del Tempio è il muro del pianto cioè poche pietre rimaste lì a testimoniare che la profezia quando viene da Dio si adempie in tutti i suoi particolari e noi abbiamo visto che con la profezia delle 70 settimane con 600 anni di anticipo Daniele indica al mondo il Messia l'unico vero perché dico questo perché nel momento in cui Daniele predicava apparvero altri Messia altri riformatori Zaratustra Buddha Lao Tse Confucio e benché questi uomini abbiano avuto un peso importantissimo all'interno dei loro movimenti religiosi hanno stati tutti dei riformatori però Daniele diceva il vero Messia apparirà alla fine delle 70 settimane oggi molti considerano Zaratustra un Messia Buddha un Messia o tanti altri ma la profezia delle 70 settimane ci diceva perché non ci sbagliassimo perché non corressimo dietro al vento il Messia avrà queste caratteristiche apparirà in questo preciso momento storico e non potrete sbagliarvi sembra assodato anche ormai il fatto che proprio questi riformatori che sono vissuti al tempo di Daniele i riformatori che i cristiani direbbero essere dei pagani abbiano invece subito l'influenza della religiosità ebraica gli giudei erano stati deportati nel 721 avanti Cristo dagli assiri e poi nel 600 avanti Cristo dai babilonesi e con queste due deportazioni gli ebrei si sono sparsi praticamente in tutti gli angoli del mondo allora conosciuto perfino in Tibet ed è grazie alla loro influenza che i riformatori delle varie religioni hinduista zoroastriana eccetera eccetera hanno potuto nel loro pacchetto diciamo così teologico inserire degli accenni anche all'era messianica e in quel momento storico che succede qualcosa di straordinariamente importante Daniele profetizza l'avvento di un messia molte religioni antiche si rinnovano ma il messia apparirà 490 anni dopo allo scadere delle 70 settimane ecco perché possiamo dire che Cristo Gesù veramente è la via la verità la vita di un messia